... Denunciato dalla polizia un truffatore che insediatosi al pronto soccorso di Acireale provava a vendere agli astanti fantomatici posti di lavoro in Svizzera. Chiusura del pronto soccorso di Giara, il CGA rigette il ricorso dei cittadini ma rimanda la pratica al TAR che a questo punto dovrà decidere. Il Carnevale 10 Reale si prepara ad un intenso fine settimana con le sfilate dei carri in programma oggi e domani. Stamattina intanto gran finale per le scuole in maschera. Buono sabato a voi tutti, bentrovati da TG Reporter. Abbiamo visto insieme i titoli del giornale, anche tantissime altre notizie in scaletta. L'obiettivo di città-città ad esempio si è soffermato ieri sulla SOGIP, la società comunale che ad Acireale diventa sempre più strategica nelle dinamiche cittadine. In via Santa Caterina, sempre ad Acireale, proseguono intanto i disagi per i residenti derivanti dal senso unico. l'Iter va avanti e prevede varie sfaccettature che scopriremo nel corso del TG. Poi lo sport, calcio Acireale è obbligato a vincere oggi con l'Orlandina e sperare in un passo-fasso delle rivali per la promozione. Weekend ricco però di appuntamenti sportivi anche nelle altre discipline agonistiche. Ma vediamo insieme il primo servizio di oggi, l'apertura, con una notizia che è perlomeno curiosa, se non altro, perché un pregiudicato lentinese ha provato a vendere inesistenti posti di lavoro alle persone in attesa al pronto soccorso di Acireale. Vediamo. La stanteria del pronto soccorso di Acireale come una rete piena di pesciolini da fare a boccare. L'idea avuta dal pregiudicato lentinese era questa, semplice e geniale. E stava anche funzionando, se non che qualcuno ha sentito puzza di bruciato e ha fatto intervenire la polizia del commissariato di Acireale. E' finita così la breve carriera di truffatore dell'uomo, che fingendo di avere dolori al petto si era installato nella stanteria dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Via Caronia. E lì aveva teso le sue reti e atteso. E i pesci hanno abboccato. L'uomo proponeva contratti di assunzione per una fantomatica ditta svizzera, la Swiss Made, e per rendere più credibile la cosa girava con una cartelletta con dentro dei falsi contratti già firmati e persino dei biglietti aerei per la tratta Catania-Zurigo, regolarmente acquistati. Alle persone che si mostravano interessate, il pregiudicato diceva che serviva un acconto per le spese di vitto e alloggio che si aggirava tra i 200 e i 420 euro. Somme che qualcuno è anche arrivato a versare, in contanti o su una poste pay intestata alla madre del truffatore. Scoperta la truffa, l'uomo è stato fermato dagli agenti della polizia e condotto in commissariato dove le diverse persone truffate hanno confermato l'imbroglio e hanno sporto querella nei confronti del pregiudicato, con la polizia che ha inevitabilmente provveduto ad inoltrare la denuncia. Le indagini degli agenti però continuano per verificare se lo stesso pregiudicato si si è reso responsabile di altre truffe del genere. Chiusura del pronto soccorso di Giarre con la pronuncia del CGA, il TAR è messo alle strette e dovrà già il prossimo 24 marzo decidere sul ricorso presentato dalla rete delle associazioni contro la chiusura del pronto soccorso. Vediamo. Svolta giudiziaria nella questione relativa all'ospedale di Giarre alla chiusura del pronto soccorso deliberata dall'ASP Catania nell'aprile dello scorso anno. Il CGA, Consiglio di Giustizia Amministrativa infatti, si è pronunciato nella giornata di ieri sul ricorso cautelare in appello presentato dalle associazioni ioniche e da alcuni rappresentanti istituzionali del Comune di Giarre. Un ricorso presentato al TAR che inizialmente, nell'attesa di pronunciarsi sul merito, non aveva sospeso la delibera rimandando la giurisdizione sul ricorso al giudice ordinario. Attraverso gli avvocati Angelo Danna e Giovanni Parisi è stato quindi proposto un appello cautelare al CGA, che si è pronunciato ieri per l'appunto, rigettando l'appello della rete ma ribaltando la pronuncia del TAR, affermando come ad un sommario esame la competenza sia proprio del giudice amministrativo. Un aspetto insomma non del tutto trascurabile, che stabilisce una volta per tutte le competenze in materia, evitando possibili rimpalli di responsabilità giurisdizionali. Con la pronuncia del CGA dunque il TAR viene messo alle strette ed è stata fissata al prossimo 24 marzo l'udienza per discutere sul ricorso presentato dalla rete delle associazioni che contestano la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Giarre. Le vie legali però, va detto, non garantiscono certezze. Se un domani infatti venisse data ragione ai ricorrenti, si riconoscesse cioè che il pronto soccorso dell'ospedale di Giarre è stato chiuso ingiustamente, potrebbe anche verificarsi che la sentenza non venga poi applicata. Sarebbe insomma una vittoria più morale che materiale, comunque importante per il comprensorio giarrese. Ricominciare a parlare di politica, di servizi, avanzare proposte per migliorare la vita dei cittadini di Giarre senza intenti polemici con l'amministrazione comunale. È l'obiettivo che si prefigge l'Associazione Generazione Giovani che ieri nella Sala Romeo ha organizzato un incontro pubblico sul tema qualità dei servizi e tasse pagate, vivere a Giarre. Come ha spiegato l'avvocato Sonia Limura, l'Associazione è composta da un gruppo etereogeneo di giovani professionisti che vuole discutere sui temi più attuali, inerenti le politiche sociali e le tematiche ambientali, alla fine di avvicinare i cittadini all'amministrazione comunale affrontando i problemi del territorio. L'Associazione ha quindi posto al sindaco Roberto Bonacorsi una serie di richieste e di proposte riguardanti, tra le altre cose, le strade dissestate, le imposte elevate, l'abbattimento delle barriere architettoniche. Torniamo ad Acireale, parliamo del grande carnevale di Acireale, oggi e domani weekend e clou della manifestazione carnascialesca, vediamo insieme. La due giorni intensa del carnevale di Acireale, vale a dire oggi e domani con la doppia sfilata dei carri allegorici grotteschi, è cominciata questa mattina con la sfilata conclusiva del concorso Scuole in Maschera, alla quale hanno preso parte cinque gruppi, di cui tre scuole accesi, il Plesso Raciti, la Fuccio La Spina e la Topolini a Scull. C'erano anche l'istituto comprensivo Leonardo Grassi di Mascali e il comprensivo Elio Vittorini di San Pietro Clarenza. Tanti soggetti e i temi rappresentati, dal carnevale di Venezia ispirato all'omonimo film degli anni 30, i bambini si sono esibiti con maschere in stile veneziano realizzate artigianalmente con l'aiuto delle insegnanti, all'opera Anna and the King ispirato all'omonimo romanzo storico e grafico di Margaret Landon e non poteva mancare l'omaggio al cinema con la scuola Topolinea che ha rappresentato Walt Disney. Facendo un passo indietro, ieri pomeriggio, sul palcoscenico ricavato nell'ex angolo di Paradiso, è andato in scena il concorso più antico del carnevale di Acireale, vale a dire quello dei bambini in maschera. Secondo la classifica decretata dai giurati, il primo posto tra le femminucce è andato a Giulia Torrisi con Basta un po' di zucchero. Tra i maschietti invece ha vinto Giovanni Miccolis con Sicilia Expo. In serata invece spazio alla consulta giovanile con Rumori Barocchi, concorso per giovani band e cantanti emergenti. Per la categoria Vocal, primo classificato è stato Giuseppe Fassari, al secondo posto Ottavia Privitera, nella categoria Writers, primo e secondo ex equo Pennisi e Tarducci. Venendo al programma della Due Giorni Clou del Carnevale, nel pomeriggio ritornano in pista i giganti della cartapesta dei maestri artigiani accesi, sette opere che sfileranno lungo il circuito grande. Nuova sfilata anche per la novità di questa edizione, costituita dalle maschere singole realizzate da giovani artisti aspiranti maestri della cartapesta. E in serata altra novità, con il centro città che si trasformerà in una discoteca all'aperto per una grande festa in maschera in occasione di balla coi carri. Per i collezionisti diversi gli appuntamenti da non perdere. In piazza Duomo si potrà ottenere l'annullo commemorativo del più bel carnevale di Sicilia 2018. 2016. Nella sede del club Frecce Tricolori in via Arcangelo Raffaele si svolgerà invece la quattordicesima edizione del campionato di scacchi a squadre. In piazza Garibaldi l'associazione artigianato accese avrà modo di far conoscere con la bottega della cartapesta tutti i segreti di questa arte accese. A chiudere la Due Giorni Clou del Carnevale, domani la parata di posizionamento dei carri a partire dalle 11.30 del mattino e alle 15 la sfilata lungo il circuito barocco del Carnevale. Legato alle manifestazioni carnascialesche di Acireale, questa mattina intorno a mezzogiorno particolarmente divertente è stato il flash mob organizzato dai protagonisti del concorso Scuole in Maschera. Come vedete dalle immagini tutti i partecipanti al concorso, ancora vestiti e con i costumi delle esibizioni, hanno realizzato una sorta di balletto con tanto di coreografia musicale colorata da innumerevoli cartoncini alzati al cielo. Un momento di allegria e dispensieratezza che ha chiuso il concorso delle Scuole in Maschera quest'anno dedicato, come dicevamo poc'anzi, al tema del cinema. E a proposito del Carnevale ci spostiamo a Riposto dove questa sera sarà inaugurata alle 18.30 alle presenze del sindaco Enzo Caragliano Palazzo Vigo di Torre Archirafie. Perché lo leghiamo al Carnevale? Perché alle 20.30 lo storico Palazzo aprirà le proprie porte per ospitare il Gran Ballo di Carnevale 2016. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel Città Città. Il rotocalco settimanale che affronta e approfondisce con ospiti in studio le tematiche di attualità. Tutti i venerdì ore 21.10 in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23. Online su YouTube e Facebook. Conduce in studio Antonio Carazzo. Città Città. Il dibattito. Parte da qui. Vivi l'emozione del Carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli. Riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato. Per info carnevalediacireale.it o 095 895 249. Sabato 6, domenica 7 e martedì 9. Le grandi parate del Carnevale. Ottica Grasso. Centro ottico Zeiss. Per il massimo comfort dei vostri occhi. Ad Acireale. Nuovo ampio concept store. In corso Italia 122. Ad Aci Catena. In via matrice 34. Ottica Grasso. 34 anni d'ottica. Scuola Emanuele Rossi. Aci Catena. Preparazione ed educazione. Questi gli obiettivi dei nostri progetti per i vostri figli. Ci prendiamo cura di loro sin da piccoli per individuare insieme un percorso di crescita corretto e di sensibilità per il loro futuro. Le nostre scuole in tre sedi sono per l'infanzia e le primarie. Hanno dei programmi ricchi di attività affiancate allo studio che rendono interessanti le lezioni ai bambini sin da piccoli. Laboratori di robotica, ceramica, artistico, cucina, aule studio per l'apprendimento dell'inglese, palestre, campi di calcio, laboratori di psicomotricità. Scuola elementare Emanuele Rossi. Primo circolo didattico Aci Catena. Sede centrale in via Francesco Strano. Altri plessi in via Ettore Maiorana e in via Arena. La scuola Emanuele Rossi progetta il futuro dei vostri figli. Le iscrizioni si chiudono il 22 febbraio. La pizzeria di Flora Caffè? Carina! L'ho già scelta per il mio compleanno. Pizza buonissima cotta nel forno a legna, patatine patatose. E poi è elegante, simpatica al punto giusto per essere la location della mia festa. Anche i miei genitori ci vanno spesso perché oltre alle ottime pizze propongono fuori menù piatti a tema con la stagione. Straordinari! La pizzeria di Flora Caffè. Il gusto fatto ad arte. Via Sclafani 40 di fronte ben vesti Acireale. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili. Robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di istruzione superiore statale Galileo Ferraris Acireale. Sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazione. Meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Smoker Store. Sai che le sigarette elettroniche di seconda generazione sono molto più efficace e prestanti? Sai che il 70% di chi fuma elettronico ha smesso con le sigarette classiche? Sai che secondo il dottor Veronesi è il modo migliore per smettere di fumare? Smoker Store. Oltre 200 tipi di liquidi a prezzi sbalorditivi. I migliori ad Acireale in corso Umberto 183. Ricorda, il fumo uccide, il vapore no. La scuola è per la vita. Scegli oggi per tuo figlio un'ottima scuola. Lo preparerà a un futuro senza incertezze. La scuola Galileo Galilei è l'unica scuola sul territorio accese ad avere l'indirizzo musicale con quattro strumenti. Chitarra, violino, pianoforte, flauto traverso. Da sempre è rinomata per i corsi di informatica per il conseguimento della patente europea, per le certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge, da cui il prestigioso riconoscimento di Cambridge English Exam Preparation Center. La struttura è dotata di auditorium, sala teatro, aula magna, biblioteca, laboratori informatici, di scienze, di manualità artistica e di sostegno. Fornisce servizi di pre- e post-scuola a richiesta dell'utenza, corsi gratuiti di recupero e potenziamento per la preparazione ai giochi e alle olimpiadi di matematica. La scuola Galileo Galilei è anche sportello di orientamento ai genitori per le iscrizioni online. Seconda parte del notiziario apriamo con Cireale, senso unico su via Santa Caterina con esclusione dei residenti della frazione. Tutto tace però due mesi dalla richiesta di autorizzazione dei pass. Via Santa Caterina da Cireale. Tutto tace con buona pace dei residenti della frazione di Santa Caterina è chiamato ogni giorno a compiere per ritornare a casa un lungo giro alternativo che li porta fino al Bivio San Peri e poi sulla statale 114. Tiene banco ancora così il senso unico della discordia con divieto di accesso da via Vittoria Emanuele, istituito sul finire dell'estate e per il quale poi successivamente, a fine novembre, si trovò un punto di intesa con il sindaco Roberto Barbagallo che dispose perciò l'autorizzazione solo per i residenti, i quali avrebbero dovuto ricevere un pass. A spezzare perciò una lancia in favore del disagio dei residenti, il consigliere comunale Francesco D'Ambra, che evidenzia come il contesto di via Santa Caterina sia rimasto immutato per quanto riguarda la segnaletica orizzontale e verticale, oltre poi alla mancata entrata in vigore dei pass per i residenti. Una situazione quindi di incertezze e ambiguità, tanto da lasciare spazio per gli automobilisti in genere a dubbi e perplessità, mentre per contro i residenti a chiedersi che fine abbiano fatto le nuove disposizioni. Si può dire subito comunque che il progetto non è affatto accaduto nel dimenticatoio, come hanno modo di sostenere sia il sindaco Roberto Barbagallo che il comandante della Polizia Municipale Antonino Molino. Negli uffici della caserma di via degli Ulivi, infatti, si ha lavoro per predisporre una serie di atti burocratici non indifferenti, al di là del rilascio dei pass per gli automobilisti di Santa Caterina che ne hanno fatto richiesta. Infatti è necessario anche riprogrammare tutta la segnaletica, aspetto quest'ultimo già pronto per essere attuato, e poi ancora adottare tutte le normative del caso al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza. A porre tempo in mezzo, inoltre hanno contribuito, viene fatto notare l'impegno del personale per le varie festività, cui in queste settimane si è dovuto fare fronte. Per ultimo il Carnevale. Cronaca giudiziaria, la Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando l'inammissibile di Salvatore Capone, il sotto ufficiale dell'Aeronautica Militare, condannata a 30 anni di reclusione che il 12 novembre del 2009, al culmine di un litigio nell'abitazione di Giara, appiccò il fuoco alla moglie, Maria Rita Russo, di 31 anni, dopo averla cosparsa di liquido infiammabile. L'uomo ferì in quell'occasione anche due figli gemelli, un maschio e una femmina, che all'epoca dei fatti avevano tre anni. La donna morì dieci giorni dopo al centro grandi ustionati dell'ospedale Canizzaro di Catania. In primo grado, in rito abbreviato, l'imputato era stato condannato all'ergastolo per omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla duplice tentativo omicidio dei due figli. In appello, nel febbraio 2013, gli erano stati invece inflitti 30 anni, in quanto era stata ritenuta insussistente la desistenza volontaria del tentativo di omicidio dei bambini e il reato era stato derubricato in lesioni aggravate. Adesso la condanna definitiva per omicidio volontario aggravato della moglie e il duplice tentativo di omicidio dei due figli. Andiamo avanti con il giornale, cambiamo nuovamente pagina, parliamo di città a città. Il nostro settimanale di informazione è andato in onda ieri, obiettivo puntato sulla municipalizzata del comune di Acirale. La Soggi. Se l'acqua è un bene prezioso che non va sprecato, il metano è un'opportunità da sfruttare nell'attesa di vedere rifiorire il verde pubblico e perché no pensare in grande. C'è ad una città dalle strade lisce come il tavolo da biliardo efficientemente e scientemente illuminate. Questo è il presente, questo è il futuro della Sogip, la società comunale nata da Cireale per distribuire acqua ma che col passare del tempo è divenuto il primo front office comunale di erogazione di servizi della municipalità acese. 30.000 utenti ricevono quotidianamente acqua da Sogip, altre 5.000 si riscaldano con il gas di Sogip Trade. Grandi numeri per l'azienda totale capitale pubblico, patrimonio del comune di Acirale, protagonista ieri del settimanale di informazione Città a Città, condotto da Antonio Garozzo. Ospiti della trasmissione, il vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici Nando Ardita, il direttore di Sogip Salvatore Messina, l'amministratore unico di Sogip Trade, Rosario Musmarra, che incalzati dalle domande dei telespettatori e dalle valutazioni financo tecniche dell'opinionista Enzo Di Mauro, hanno tracciato l'identikit di Sogip, società sana e in ottima salute, a 13 anni dalla sua creazione. Società che dal 2003, grazie alla politica di ottimizzazione della rete e di razionalizzazione e controllo dei consumi, ha battuto da 650 litri a 350 litri al secondo l'emungimento d'acqua, con notevoli risparmi energetici e di salvaguardia delle falde. Al centro del sistema è il direttore Turi Messina, che chiarisce il concetto di società pubblica dopo la sollecitazione di Acireale e Bene Comune. Qui purtroppo ancora c'è questa mistificazione, che si ritiene che la Sogip, essendo come socio unico il comune, sia una società pubblica. Non è così. La Sogip è una società pubblica, tanto è vero che l'unico socio della società è il comune. La Sogip non ha autonomia decisionale di fare i prelievi arbitrati. Ora ha la competenza a stabilire quali sono le linee guide a cui si deve riferire una società pubblica come la Sogip e l'autorità per le energie elettriche, il gas e agendola. Una società valida ed efficiente che a breve renderà più accogliente anche la sedia a cui l'amministrazione intende affidare nuove competenze. C'era ancora l'amministrazione Garosso e di conseguenza in quella seduta di amministrazione della Sogip si è previsto di allargare le competenze. Noi logicamente potevamo senza ombra di dubbio... Diciamo che è stata una delibera allora che voi l'avete benedetto. Come? Noi abbiamo visto giusto, perché se non avessimo avuto questo tipo di ragionamento o di visione noi avremmo bloccato sinceramente la delibera. Il mio compito è quello anche di spronare sia l'amministrazione sia la Sogip e SRL affinché venga allargata la rete di distribuzione del gas per due motivi, sia per dare maggiore ingasso alla Sogip e sia per dare maggiore servizio ai cittadini. La Sogip balzò agli onori del grande pubblico nel 2008 per la tassazione sulla depurazione. La corte ha rilevato a seguito di un riposto che la tassa sulla depurazione non era chiamata tassa ma era la corrispondizione per un servizio. Allora la Cassazione dice se il servizio non c'è tu non la puoi applicare. Se invece fosse stato chiamato tassa non sarebbe successo. Ma la Sogip era obbligata ad applicarla come è stata poi obbligata a restituirla secondo le norme che sono venute fuori dai parienti. Il pensiero corre veloce anche al depuratore che non c'è. Farsi commissariale. Il consiglio comunale. Il consiglio comunale. Le amministrazioni. È stato comodo. Ascolti, il problema della localizzazione è partita penso 30 anni fa. Questo depuratore, questo mega depuratore è andato spostandosi nelle varie zone deciliale. Si dovrà fare una scelta e noi siamo subito e disposti a questa scelta ad aiutare e a collaborare il commissario. Il deposito cauzionale di 70 euro è legittimo secondo Acireale Benecomune. Il deposito cauzionale, come dice la delibera del 28-2013, non può essere superiore a tre mensilità di erogazione di atto. Allarmismo non ce ne doveva essere, non ce ne doveva essere, ma è stato procurato. Chi ha pagato non deve pagare, chi ha pagato un po' di meno deve integrare, chi ha la debito o la canalizzazione in banca, non paga deposito cauzionale. La tariffa deciliale è comunque la più bassa, anche del 50% di quel che accade negli altri comuni, mentre Sogip si appesta a varare un piano di potenziamento della rete gas metano. Intanto i provvedimenti che sono in programma sono quelli di Dia Wagner, quasi al 100%. Aggiungo che noi abbiamo intenzione di prolungare la rete su Santa Maria delle Grazie fino alla zona di Capomulini, da un lato e via Santa Maria Parati dicevamo che c'è la via Castagneto che è un punto importante e la zona di Baratelle che è stata toccata pure dalla rete. Insomma gli accessi fanno i conti con Sogip quotidianamente per cui chi ne volesse sapere di più, tanto di più, non può che risintonizzarsi sulla nostra emittente oggi alle ore 16 e domani alle ore 23 per seguire in replica la puntata di Città a Città. A Cicatena lunedì dalle 8 alle 15 a causa di lavori urgenti di riparazione potrebbero verificarsi di servizi idrici nel centro storico Catenoto segnatamente nelle vie 4 Novembre, Badia, Matrice e nelle aree Limitrofe. La fiamma tricolore di AC Sant'Antonio ha richiesto le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale. La sua carica sarebbe incompatibile con l'incarico da insegnante ricevuto. Vediamo insieme. Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Scuderi si dimetta. La sua carica è inconciliabile con l'incarico di insegnante che ha ricevuto. Il Segretario Comunale della fiamma tricolore di AC Sant'Antonio, Salvatore Contarino, ha protocollato ieri mattina una lettera in cui chiede al Presidente Scuderi di farsi da parte. Scuderi ha infatti ricevuto un incarico di insegnante a tempo determinato in una scuola media in provincia di Cuneo. Un incarico da 18 ore settimanali che Scuderi ha dallo scorso dicembre e che si chiuderà a giugno, ma che, secondo Contarino, vista la distanza, impedirebbe al Presidente di svolgere come si deve il proprio incarico. La carica del Presidente del Consiglio è una carica imbottante. Di conseguenza bisogna essere sempre presente e non può esercitarlo da una scuola da settentrione. Quindi sarebbe opportuno che si dimettesse in modo tale dare spazio ad un altro consigliere e non fermare i lavori del Consiglio. Abbiamo già inottato una richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio, la Sindaco, all'Aggiunta e a tutto il Consiglio Comunale, con l'esperanza che venga fatta la scelta giusta non per l'Aggiunta ma per il Comune 10 senatore. Il signor Scuderi, aggiunge Contarino nella sua lettera, si è già trasferito e già una seduta di Consiglio Comunale si è svolta senza la sua presenza. Non ci sembra giusto che Scuderi gravi sulle casse del Comune per un compito non svolto. Confidiamo che la nostra richiesta possa sensibilizzarlo nel fare la scelta giusta. Raggiunto telefonicamente, Scuderi preferisce al momento non rispondere e si riserva di farlo dopo aver letto integralmente il documento protocollato dalla Fiamma Tricolore. La Prefettura di Fermo ha disposto l'annullamento del provvedimento interdittivo antimafia emesso lo scorso luglio nei confronti della Senesi, la ditta che espreta il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in diversi comuni siciliani, tra questi a Cireale e a Cicatena, ma che ha anche vinto recentemente l'appalto settennale a Giarre. Esprimo la mia personale soddisfazione sul pronunciamento positivo emesso dalla Prefettura di Fermo, ha affermato Rodolfo Briganti, amministratore delegato della società, che restituisce la piena operatività alla Senesi. Risultate strane a qualsiasi voglia condizionamento criminale, tanto da vedersi accogliere favorevolmente alla richiesta di iscrizione nella white list riservata a tutte quelle società sulla cui partecipazione e bandi di evidenza pubblica fanno giustamente riferimento ai comuni. Il provvedimento, osserva Briganti, è stato accolto in azienda con un lungo applauso liberatorio da parte dei nostri 700 collaboratori sparsi nei cantieri di tutta Italia. Ripartiamo quindi con rinnovato slancio, certi di svolgere sempre meglio la nostra mission. Ci fermiamo, torniamo in pubblicità, ci rivedremo subito dopo. Ai magazzini del risparmio sono arrivati i costumi in maschera per piccoli e grandi. Scegli il tuo personaggio preferito. Frozen, Marsha, Spider-Man, i pirati, Peter Pan e Trilli, il pompiere e tanti altri. Magazzini del risparmio, unico per assortimento, il massimo per convenienza. Costumi in maschera per piccoli e grandi e per tutti i bambini un simpatico omaggio. Magazzini del risparmio, piazza Duomo 23 a Cireale, di fronte alla cattedrale. Scegli un argomento a piacere, per la vita, all'Istituto Superiore Statale Majorana Meucci. Puoi, per il tuo futuro, scelte specialistiche innovative, nel settore tecnico-economico, amministrazione, finanza e marketing, sistemi informativi, relazioni internazionali per il marketing. Nel settore professionale, manutenzione e assistenza tecnica, servizi sociosanitari. Una scuola all'avanguardia, con aule attrezzate, palestre, fornitura gratuita di libri, potenziamento delle lingue, corsi gratuiti per la preparazione ai test di accesso all'università. Sono previsti viaggi studi in Europa, stage aziendali, corsi di recupero, progetti di alternanza scuola-lavoro, attività sportiva, teatrale, musicale. www.majorana-meucci.it, telefono 095 61 36 015. Sono i piccoli dettagli che fanno le grandi differenze. Mucar Auto, da 20 anni al servizio dei clienti, propone autovetture nuove, usate, chilometri zero ed aziendali, di tutte le marche, controllate, revisionate e garantite. Personale qualificato saprà aiutarti nella scelta giusta, curando i dettagli del prima e del post vendita. Finanziamenti personalizzati a tasso agevolato con anticipo zero. E ricorda, solo da noi il passaggio di proprietà è immediato. Mucar Auto, Vianizzetti 128, AC Catena, 095 76 55 716. Mucar Auto, piace alla gente che piace. Tomarchio Ottica, occhiali da vista, da sole e lenti a contatto. Tomarchio Foto, da sempre le migliori marche per le tue immagini migliori. Tomarchio è un negozio Oxxo, 100% ottici optometristi. Richiedi la Oxxo Family Card di Tomarchio, avrai grandi vantaggi. Tomarchio, Ottica e Fotografia, Corso Italia 18A, ACI Reale, professionalità, servizi e assistenza personalizzati. Il quinto istituto comprensivo statale Paolo Vasta, ACI Reale, assolve al proprio compito istituzionale di istruzione e formazione, ponendo la massima attenzione alla cura della persona, perseguendo il miglioramento continuo attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti e attivando un costante dialogo con le famiglie in un clima di serena collaborazione e confronto. Il progetto formativo comprende percorsi di educazione ambientale alla salute, alla legalità, attività di recupero, potenziamento, valorizzazione delle eccellenze ed è arricchito da attività musicali e coreutiche, teatrali e artistico-espressive. La professionalità del personale scolastico contribuisce a garantire il successo formativo di tutti gli alunni. Quinto istituto comprensivo statale Paolo Vasta, via dottor Alfio Fichera 3, ACI Reale, telefono 095 763 45 15. Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più da quando ho scoperto carne e natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola accese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e natura, macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 82 84 ACI Reale, telefono 095 764 84 48. Da 35 anni al servizio della buona tavola. L'istituto superiore Filippo Brunelleschi ACI Reale diventa scuola europea per l'istruzione. Da noi puoi scegliere di diventare un tecnico nel settore turistico o se la tua passione è l'arte specializzarti al liceo artistico. La scuola di istruzione Filippo Brunelleschi è una delle pochissime strutture rimodernate anche nelle infrastrutture con ben 23 laboratori informatici, linguistici per le discipline pittoriche, plastiche, grafiche e geometriche con aule attrezzate per le disabilità, aule polifunzionali, aula magna, palestre interne ed esterne, campi di pallavolo e basket. Istituto di istruzione superiore Filippo Brunelleschi ACI Reale via Giovanni Verga 99 per info 095 613 60 05. La scuola fornisce gratuitamente i libri per il biennio, realizza progetti europei extracurricolari, stagi in Italia e all'estero e viaggi di istruzione all'estero contribuendo con 100 euro per ogni alunno di quinta classe. Ai primi 100 iscritti sarà dato incomodato d'uso un iPad. Su approvazione FESR 10.8, aule aumentate. Terza parte di TG Reporter che dedichiamo allo sport. Partiamo con il calcio, con il campionato di eccellenza. Oggi la C-Reale è obbligato a vincere contro l'Orlandina ma deve anche sperare in un passo falso delle rivali nella lotta ai play-off. Vediamo. Obbligato a non fallire più, una mancata vittoria sarebbe infatti una sconfitta e protocollerebbe l'addio al primo posto. Con queste pressioni addosso la C-Reale si appresta a vivere le ultime dieci giornate di campionato. Dieci finali, dieci partite da dentro fuori, a cominciare da oggi pomeriggio quando alle 15 arriva al Tuparello il fanalino di coda orlandina già spacciato anche se non matematicamente con un piede e mezzo in promozione. Ma sottovalutare la gara di oggi e prenderla sotto gamba, come fatto nel match d'andata, quando decise un solo gollo di Cocimano contro la difesa più battuta del torneo, sarebbe un errore da Pivelli. La C-Reale deve vincere a tutti i costi e nonostante le assenze, certe, quelle di Cocimano, squalificato e millesi ancora acciaccato, probabile quella di Godino, febbricitante, possibili quelle di Conti e Arena, anche loro alle prese con qualche fastidio fisico. Spazio dunque a chi ha giocato meno, ma senza esagerare per non correre inutili rischi. L'orlandina comunque sembra aver tirato i remi in barco ormai, abbandonandosi dal suo destino. Dieci le sconfitte consecutive, un solo gol realizzato, ben 48 subiti, quasi cinque a partita. Numeri impietosi ed inequivocabili, ma attenzione agli scherzi di carnevale. Calcio d'inizio oggi alle 15 al Tupparello, a gara anticipata al sabato proprio in vista delle manifestazioni carnascialesche di domani. Stesso motivo per il quale viene anticipata ad oggi Rocca di Capellione Giarre, con gli ospiti chiamati a vincere per testare una volta per tutte le ambizioni difficili di play-off. Sempre oggi, poi, in campo anche l'assicula Leonzio, attesa a mister Bianco da un atletico Catania che fatica a sollevare la testa, nonostante la rivoluzione nel mercato di dicembre. La capolista è già Virtus, invece, attesa domani dal modesto Modica, mentre in chiave play-off lo Sporting Taormina riceve domani il Rosolini. Sfida a salvezza delicatissime, infine, tra Milazio e Sampio, mentre il dia grande sogna l'impresa in casa del Troina, andando a caccia di un successo che manca ormai dal 13 dicembre scorso. Occupiamoci adesso del campionato di promozione. Biancavilla domani a Mascaluccia per continuare a credere nella storia, quella di ottenere la matematica promozione in eccellenza con ben sette giornate di anticipo. Mancano nove punti, infatti, all'appello per centrare il traguardo. Nove punti, compresi tre, di cui va a caccia domani la capolista. In ottica play-off, ultima spiaggia per l'Aci Sant'Antonio domani contro il Forte. Real Avola, la vice capolista, mentre in coda il Real Laci, atteso domani dalla delicatissima trasferta di Adrano contro una rivale diretta per la salvezza. Perdere significherebbe compromettere decisamente le chance di evitare i play-out. Atletico pedale, infine, di scena domani a Pozzallo contro l'ultima della classe a caccia di punti che permettano agli etnei di allontanarsi dai bassi fondi della classifica. Weekend di riposo, infine, in prima e seconda categoria, dove si torna in campo il 20 e 21 febbraio. Intanto oggi spazio al recupero nel girone G di seconda categoria tra Troina e Olimpia Pedala. Adesso diamo un'occhiata alla panoramica che ci riserva gli altri sport. Resistere un altro sabato, poi tutto potrebbe divenire in discesa. E il must che ripetono da una settimana in casa a Cipratani. La capolista del girone C di Serie C2 di calcio a 5, infatti, è chiamata oggi a Milazzo contro la Virtus a superare uno degli ultimi grandi ostacoli che il calendario le pone davanti da qui alla fine del campionato. 8 gare in totale. Vincere oggi in casa della terza forza del torneo, insomma, sarebbe una prova di forza senza eguali e che permetterebbe agli accesi di restare in vetta, mal che vada, con 3 punti di vantaggio sul cittadio Oliveri, di scena a sua volta in casa di un castro reale a caccia di fondamentali punti salvezza. Deve tornare a vincere invece la stella rossa di Santa Tecla oggi in casa contro il Montalbano per non farsi attirare troppo nei bassi fondi della classifica, lì dove il Realace oggi conosce uno scontro diretto da dentro fuori con i rivali del Saponara, avanti di un solo punto in classifica. Si rituffa in campionato invece la liberamente a Cicatena, volley femminile di Serie C, dopo l'amarezze di Coppa Sicilia con l'eliminazione nei quarti di finale. Domani alle 18, nella palestra di Via Europa, le liberelle ospitano la terza della classe, quel volley 96 Milazzo che nella gara d'andata rispedì a casa le catenote con un secco 3-0. Scontro play-off dunque nella prima gara del girone di ritorno, con la liberamente costretta a vincere per risalire la china in classifica ed avvicinarsi ulteriormente alla griglia degli spareggi. Vicinissima al primo posto, anche se con una gara in più invece la Quiglia Cineale, palla a volo maschile di prima divisione, gli accesi poi domani alle 16 giocano in casa del fanalino di coda Ora Don Bosco ed in caso di successo e di mancata vittoria della capolista Pedara potrebbero tornare in vetta almeno per un weekend. Infine nel basket maschile di Serie D, girone orientale, domani la C-Basket riceve alle 18 nella palestra Leonardo da Vinci a Catania la vice capolista Sporting Club Adrano da terza della classe, forte delle quattro vittorie di fila ottenute nel 2016 e che hanno proiettato gli accesi nei piani alti della classifica ma soprattutto a più quattro dalla zona retrocessione. Non ci sono altri servizi per il telegiornale di oggi quindi prima dei saluti un'occhiata al meteo. In Sicilia domani cielo coperto, vento da sud sud-ovest con raffiche fino a 39 km la condizione del tempo sarà in peggioramento durante la serata temperature minime 6 gradi, massime 14 gradi, mari poco mossi. Bene, grazie per essere stati con noi TG Reporter ritornerà lunedì alle ore 13.40 con la nuova edizione ma questo telegiornale potrà essere rivisto sulla nostra pagina Facebook Etna Espresso Channel TG Reporter Grazie a voi tutti per essere stati con noi Buon proseguimento di weekend Grazie a tutti